Buonasera da J News e benvenuti all'edizione delle 19. Scontro frontale tra due auto lungo la statale adriatica, muore una donna. È successo intorno alle 11.45 dopo le curve dell'ex discoteca Babalu. La vittima è una donna portopotentina di 41 anni, sul posto Vigili del Fuoco, Croceverde e Polizia Stradale. Fatti da parte se tieni alla tua famiglia. Chi voleva creare scompiglio, diffondere sospetti e intimidire ha in parte centrato l'obiettivo. Luciano Clementi ha rimesso l'incarico di segretario del PD di Loreto. A poco più di un mese dalla sua elezione, avvenuta lo scorso 8 febbraio con 45 voti favorevoli e due contrari, Clementi si è visto recapitare a casa una lettera anonima, con pesanti minacce rivolte alla moglie e ai due figli. Immediata la decisione di presentare le dimissioni. Il documento è stato preso in consegna dai carabinieri della locale stazione, che una volta raccolta la denuncia hanno immediatamente avviato le indagini. Sanzioni amministrative per 29.000 euro, 3,1 kg di pesce sequestrati e 6 notizie di reato alle competenti autorità giudiziarie. Il bilancio dell'operazione Trade, condotta tra il 9 e il 14 marzo, dalle capitanerie di Porto Marchigiane, coordinate dalla Direzione Marittima di Ancona. Diverse le violazioni accertate dalla commercializzazione di prodotto ittico, al di sotto della taglia minima consentita, alla violazione delle norme in materia di rintracciabilità ed etichettatura del prodotto. Le fiamme gialle di Fano hanno sequestrato 546 kg di sigarette di contrabbando e denunciato due persone. Il deposito in stato di semiabbandono e privo di energia elettrica era nella zona industriale della città. Insospettiti da movimenti sospetti vicino al capannone, i militari hanno fatto irruzione scoprendo il carico di sigarette. La vendita avrebbe fruttato oltre 320 mila euro. Sequestrato anche un autocarro, un fanese e un brindisino sono stati denunciati per contrabbando. 250 kg di carne ovina e bovina, circa 7 mila cover per telefoni cellulari, prodotti ittici congelati in uno stato di conservazione inidoneo o senza le indicazioni relative alla filiera di provenienza, prodotti cosmetici ed ancora giocattoli, sanzioni amministrative per un totale pari a oltre 17 mila euro e il bilancio della merce sequestrata nei giorni scorsi dal reparto tutela del consumatore della Polizia Municipale di Pescara, nell'ambito di un'attività di repressione dell'abusivismo commerciale e sicurezza dei prodotti alimentari che ha interessato il centro cittadino. Finisce in manette un 33enne di Pescara di origini siciliane per estorsione nei confronti di una donna di Chieti. L'uomo, un ex tronista di televisioni, di vari programmi televisivi, minacciava e richiedeva denaro alla donna da diversi mesi. Ascoltiamo. Le fiamme gialle di Chieti hanno arrestato un 33enne di Pescara che tentava di estorcere denaro ad una donna di Chieti. I due si erano conosciuti nel corso delle riprese di una trasmissione televisiva in cui l'uomo partecipava in qualità di tronista. A seguito di questo incontro tra i due era sbocciata una certa amicizia e così perlomeno era apparso la donna, se non che ad un certo punto sono iniziate le richieste di denaro da parte di lui. Sulle prime la donna aveva accettato di venire incontro alle difficoltà economiche dell'uomo arrivando a prestargli più di 4.000 euro, poi insospettita dalle continue richieste di denaro aveva deciso di non concedere altro credito all'uomo. A quel punto però le richieste pietose si sono trasformate in pretese che diventavano sempre più pressanti e che infine venivano accompagnate anche da esplicite minacce. L'uomo che abita da diversi anni a Pescara ma che è di origini siciliane ha più volte minacciato la donna che se non gli avesse dato ulteriori 2.000 euro avrebbe ucciso lei e la sua famiglia. La donna però, seppur seriamente spaventata da queste continue intimidazioni, ha trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell'ordine. Ha denunciato il suo persecutore e i finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Chieti e della sezione di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza presso la Procura della Repubblica di Chieti e questi si sono subito messi sulle tracce dell'estorsore. La solerzia dei finanzieri e la mole di prove inconfutabili raccolte ha consentito all'autorità giudiziaria competente di emettere un provvedimento di custodia catoelare a carico dell'uomo. Quattro italiani provenienti dalle province di Pescara e di Teramo ed un romeno sono stati arrestati dai carabinieri per un furto di pneumatici del valore all'ingrosso di circa 40.000 euro compiuto nella zona di San Teraclio a Foligno. Erano a bordo di tre furgoli bianchi fermati tra Lumbia e Le Marche nel corso di un intervento che ha impegnato i militari della compagnia di Foligno e quelli di Camerino. La rifurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario. Furto con spaccata. La scorsa notte è avvenuto intorno alle tre al centro commerciale Gran Sasso a Piano Daccio di Teramo. I banditi con due autovetture hanno sfondato la vetrata scorrevole d'ingresso alla galleria commerciale e si sono diretti verso la profumeria Limoni da cui hanno asportato profumi per circa 60.000 euro. Poi sono fuggiti a bordo delle stesse auto. Dalle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso il raid si vedono i banditi con il volto coperto e le targhe delle auto oscurate il che rende più complicate le indagini della polizia. L'allarme è stato dato dopo diversi minuti se fossero state tempestive avrebbero permesso alle volanti di intercettare le vetture utilizzate come ariete. Spostiamoci a cingoli video e immagini shock dei pestaggi organizzati da ragazzini ripresi e diffusi utilizzando Whatsapp. Intanto il sindaco ha organizzato un'assemblea pubblica cui parteciperà anche il vescovo Marconi. Dopo gli ultimi episodi di duelli tra adolescenti con immagini e video degli episodi il sindaco Salta Martini ha organizzato per venerdì 27 alle ore 21 al centro di aggregazione giovanile Victoria di Villastrada un'assemblea pubblica aperta soprattutto ai genitori e ovviamente ai ragazzi. Ed ora andiamo a Nereto. I lavori per la variante alla strada provinciale 259 non possono essere bloccati. Lo conferma proprio il sindaco e al Comune è arrivata anche una nota della Forestale. Ascoltiamo e vediamo tutti i particolari nel prossimo servizio. Allora, la Forestale ha mandato una nota in cui diceva di aver ricevuto da parte del Comitato il materiale riguardante il censimento dei cipressi storici e secolari. E nella nota la Forestale appunto ha detto di aver preso in carico questa documentazione e però le procedure per la dichiarazione di storicità e il vincolo da porre su questi cipressi dovrà seguire quelle che sono le procedure dettate dalla legge regionale e dal decreto. Quindi un po' ha ribadito quella che è la posizione che io ho assunto nel senso che il Comune ha ben scanditi gli atti e le procedure che deve mettere in atto per la dichiarazione di storicità dei cipressi e delle alberature monumentali nel Comune 31 luglio, 31 dicembre di diversi passaggi che bisogna fare e in effetti la Forestale ha dato ragione a quello che io ho sempre sostenuto. Questo un po' mi conforta perché sembrava che l'amministrazione di Nereto fosse un po' assente era stata tacciata di non aver preso una posizione invece noi abbiamo letto bene il decreto e oggi abbiamo la conferma della giustezza della nostra posizione. Hanno risposto in tanti questa mattina all'invito del Presidente Renzo Di Sabatino che ha organizzato un incontro tra lo staff dell'ufficio speciale della ricostruzione post terremoto e le amministrazioni locali i professionisti, le imprese e i tecnici pubblici un'opportunità che abbiamo sottovalutato parliamo di qualcosa che pesa un punto e mezzo di PIL per il nostro territorio dobbiamo recuperare la giusta visuale e giocarci una partita che ci chiama ad un nuovo stile amministrativo veloce, virtuoso ed efficace per spendere le risorse che ci sono state destinate nel più breve tempo possibile un obbligo verso un territorio ferito che aspetta di essere ricostruito un dovere verso un sistema impresa e un tessuto socio-economico che boccheggiano mentre ci sono risorse da spendere ha dichiarato Di Sabatino in apertura dei lavori Pasquale Zaccheo ufficiale dei Carabinieri attuale comandante della Compagnia dei Carabinieri di Fermo è il candidato sindaco della lista Io scelgo Fermo Zaccheo sindaco dopo Paolo Calcinaro con Piazza Pulita Fermo ha ufficialmente il suo secondo candidato sindaco erogare i servizi di mobilità regionale in condizioni di economicità redditività e gestione efficace ed efficiente delle risorse e degli assets garantendo alla cittadina un livello di servizio di qualità elevata e questa è la mission di TUA acronimo che sta per Trasporto Unico Abruzzo la nuova azienda unica di trasporto regionale formata da ARPA, Sangritana e GTM il cui piano di fusione è stato approvato oggi dal Consiglio regionale col voto a favore della maggioranza quello contrario del Movimento 5 Stelle e del capogruppo di Forza Italia Lorenzo Sospiri e l'assenzione del centro-destra una società con un capitale sociale di 39 milioni di euro 1.613 dipendenti 890 autobus e 37 milioni di chilometri annui percorsi con un valore della produzione di oltre 142 milioni di euro in 7 mesi è stato annunciato, pensato e realizzato ciò che chi ci ha preceduto aveva puntualmente rinviato sono conclusi infatti i passaggi e la società unica del trasporto pubblico locale è ormai una realtà ciò che emerge con chiarezza è che questa scelta coraggiosa ha sbarrato la via ad una minaccia che ingombeva sui 1.613 dipendenti per i quali era a rischio la prospettiva lavorativa e quanto afferma il sottosegretario alla giunta regionale Camillo D'Alessandro a proposito dell'approvazione avvenuta come dicevamo poco fa oggi del piano di fusione che ha portato quindi alla nascita della società unica di trasporto pubblico locale chiamata TUA in attesa della convocazione delle parti sociali al Ministero dello Sviluppo Economico prosegue il presidio permanente alla Prismian dove la multinazionale ha decretato la chiusura dello stabilimento e il licenziamento di 120 dipendenti è una corsa alla solidarietà per assistere gli operai che sfidano il freddo pur di ricordare il dramma della disoccupazione che ha colpito un sito che apparentemente andava bene c'è chi porta bevande e dolci e non è mancato anche Don Peppe che ieri ha celebrato la messa davanti ai cancelli dello stabilimento spostiamoci a Pineto dove il sindaco Robert Verrocchio chiede alla provincia di Teramo di avviare al più presto un piano di programmazione che comprenda la provinciale 28 e 28A un'arteria notoriamente molto trafficata e a rischio di movimenti frannosi ricorrenti ascoltiamo insieme una richiesta di intervento per evitare ulteriori problemi a presentarla alla provincia di Teramo il sindaco di Pineto Robert Verrocchio che ha chiesto all'ente di Via Milli di attuare al più presto un piano di programmazione che comprenda anche la strada provinciale 28 e 28A tra le più trafficate della provincia soggetta a continui movimenti frannosi sarebbero infatti oltre 17.000 le auto che ogni giorno percorrono il tratto che dal casello autostradale collega i territori di Pineto, Silvi ed Atri lungo il quale si trovano aree interessate dai vasti fenomeni erosivi non di rado dunque lungo la strada si sono verificate frane e smottamenti con inevitabili problemi per la sicurezza che hanno portato a contare ben sei vittime in tre anni in un incontro avuto qualche giorno fa con i dirigenti comunali e provinciali Verrocchio ha chiesto al consigliere provinciale delegato alla viabilità Mauro Scarpantonio al presidente Renzo Di Sabatino di programmare degli interventi in quell'area e dalla provincia hanno assicurato che si interverrà subito con dei lavori per 200.000 euro mirati a fermare i movimenti franosi nella zona di Mutignano mentre sono in programma interventi per posizionare le barriere per la segnaletica vedremo se riusciremo a programmare una parte con gli 800.000 euro che ci ha trasferito la regione per le manutenzioni ordinarie ha detto Scarpantonio perché è difficile fare previsioni ora quando siamo ancora alle prese con l'emergenza del dopo maltempo ma concordiamo con il comune nel ritenere che quella provinciale ha problemi di transitabilità sicurezza che vanno affrontati La Commissione Congiunta De Manio Turismo della Conferenza delle Regioni chiede la convocazione di un tavolo di confronto col Governo per discutere il progetto di riforma del De Manio Marittimo a fini turistici vediamo La convocazione quanto prima possibile di un tavolo di confronto con il Governo sul progetto di riforma del De Manio Marittimo a fini turistici è stata richiesta dalla Commissione Congiunta De Manio Turismo della Conferenza delle Regioni che si è riunita nella sede romana della Regione Abruzzo Gli assessori del De Manio e del Turismo hanno elaborato un documento che sarà sottoposto all'esame della Conferenza delle Regioni nella riunione straordinaria del prossimo 25 marzo per poi essere presentato ufficialmente nella seduta della Stato Regioni prevista sempre nel pomeriggio il 25 Nel reiterare la richiesta di confronto che era stata già avanzata a gennaio al Governo le Regioni si sono dichiarate fiduciose che la Costituzione del tavolo con il Governo possa aiutare la collaborazione tra le istituzioni in una materia così strategica per il Paese Nel documento gli assessori regionali chiedono che si faccia chiarezza con la Commissione Europea sulla possibilità di un regime transitorio delle attuali concessioni dei maniali marittime e si stabilisca un congruo tempo di proroga In particolare le Regioni si riferiscono alla recente notizia che in altri Paesi dell'Unione le concessioni dei maniali marittime sono state prorogate di 75, 50 o 30 anni a seconda della tipologia come è accaduto in Spagna oppure che sono state mantenute forme di preferenze in favore del concessionario uscente come è accaduto in Portogallo Altro punto della richiesta riguarda la possibilità di attivare il cosiddetto doppio binario che distingue le concessioni attualmente in vigore da quelle nuove con una proroga di lunga durata per le prime con adeguati investimenti e procedure di vedenza pubblica subito applicate invece alle seconde in chiusura della riunione le Regioni ribadendo di essere a fianco degli operatori balneari in merito alla richiesta alla Corte di Giustizia europea sulla validità della proroga al 31 dicembre 2020 hanno annunciato che presto incontreranno una delegazione di rappresentanti sindacali degli operatori balneari il Comune di Nereto aderisce all'iniziativa simbolo della lotta al cambiamento climatico definita l'ora della terra 2015 voluta dal WWF internazionale all'evento che si terrà il prossimo sabato 28 marzo partecipano su scala internazionale e nazionale oltre altre migliaia di enti locali il sindaco di Nereto Giuliano Di Flavio ha dichiarato cogliamo quest'occasione per invogliare l'adozione di nuove mondiali strategie basate sul risparmio l'efficienza e l'uso di energie rinnovabili ritengo che anche piccole realtà come Nereto possano essere attori e diventare veri e propri motori dell'innovazione e della ricerca del cambiamento possibile attivandosi in ogni modo per contrastare la crisi climatica sarà Enrico Marramiero patrona dell'azienda Vitivinicola Marramiero il testimonial della 37esima sessione di proclamazione delle lauree in scienze della comunicazione che si terrà mercoledì 18 marzo alle ore 15 nell'aula magna del campus universitario Aurelio Saliceti la proclamazione dei 43 laureandi si svolgerà in forma solenne col rettore Luciano D'Amico il preside Stefano Traini il direttore generale Maria Orfeo e il corpo docente della facoltà e sarà accompagnata dagli interventi musicali del coro giovanile e universitario di Ateneo diretto dal maestro Claudia Morelli e di Andrea Ottavini al pianoforte e si è svolta ad Atri la terza edizione della manifestazione The Qua e dell'Adolutront una manifestazione che ha unito due regioni l'Abruzzo e le Marche e che ha visto la partecipazione di Ben Quintici Proloco ospite della serata Anduccio in occasione della giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali ad Atri nello scenario del teatro comunale i comitati provinciali umpli di Ascoli Fermo e Teramo hanno organizzato la manifestazione The Qua e Della dall'Utrunt è stato un pomeriggio dedicato alle differenze linguistiche di due territori vicini le Marche e l'Abruzzo un pomeriggio dedicato a letture poesie memorie musica e cultura tradizionali canti e danze folcloristiche noi abbiamo ormai da tre anni indetto questa giornata nazionale del dialetto che è un grande successo perché abbiamo visto che i dialetti non sono una cosa trascurata o in agonia sono anzi invece andando sui territori una cosa molto viva molto sentita molto partecipata bello spettacolo bel teatro bella comitiva bei teatranti una collaborazione sempre più stretta con l'Umbli Marche e con specialmente con l'Umbli Ascoli Fermo noi pensiamo di percorrere in anteprima la strada dell'unione tra le due regioni sono ben 15 le prologo che hanno aderito a questo progetto sì in una prima battuta dietro l'euforia dell'anno scorso ne erano qualcuno in più purtroppo per ragioni di tempo l'abbiamo dovuto un attimo stringare il programma comunque una bellissima manifestazione ancora una volta abbiamo fatto centro penso e quindi benvenga possiamo solo che crescere quindi e andare bene ospite della serata il cantatore comico pescarese induccio un abruzzese doc per celebrare il dialetto c'è una grandissima richiesta da parte dei giovani dei giovanissimi peccato che c'è poca attinenza con i vocabolari poca frequentazione con quella che è la cultura vera perché molti pensano che il dialetto sia la lingua solo volgare ed è giusto ma il dialetto è una specialmente l'abruzzese è una lingua antichissima importante per certi versi più antica del latino quasi come il greco alcune volte anche di più con influenze dall'arabo e poi insomma la lingua doc d'oile la Francia la Spagna e quant'altro mercoledì prossimo 18 marzo alle ore 17.30 presso l'Arca Laboratorio di Arte Contemporanea situato in Largo San Matteo Teramo si terrà la premiazione del concorso Lettera d'amore mai scritta organizzato dall'assessore alla cultura Francesca Lucantoni e da Paola Di Felice direttore del Polo Museale di Teramo l'incontro conclude l'evento Amore e Cultura del 14 febbraio scorso che è stata una vera e propria carrellata nei locali del Museo Archeologico di Arte, Musica e Poesia i vincitori sono stati designati dalla giuria composta da Francesca Lucantoni Paola Di Felice Grazia Di Lisio Tiziana Di Sante Francesca Mariotti e Massimo Pamio vino abruzzese protagonista in Germania Düsseldorf nel Provine 2015 che vede la partecipazione di ben 30 aziende viti vinicole guidate dal Consorzio di Tutela Vini d'Abruzzo insieme al Consorzio di Tutela Colline Terramane a cui si sono aggiunte numerose altre aziende presenti anche attraverso esportatori ed enoteche Dino Pepe assessore alle politiche agricole spiega l'impegno delle istituzioni per le grandi fiere del vino La Regione Abruzzo sostiene con forte determinazione il comparto vitivinicolo con la partecipazione ad eventi fieristici La prossima settimana l'importantissimo Vinitali al quale parteciperanno 880 aziende della nostra regione e poi ci sarà il VinExpo di Bordeaux il 15-19 giugno dove saranno presenti 15 aziende In attesa della donata nazionale degli alpini che si terrà all'Aquila il 15 e 17 maggio prossimi e che avrà un inevitabile ritorno anche sul territorio terramano e sullo stesso capoluogo da domani martedì 17 marzo giorno in cui si celebra la ricorrenza dell'Unità d'Italia i corsi Demichetti Cerulli e San Giorgio saranno addobbati con bandiere tricolore si tratta del primo atto di una serie di altri appuntamenti che faranno da preludio al raduno degli alpini sempre martedì 17 alle ore 11 in piazza Martiri della Libertà si svolgerà una breve celebrazione nel corso della quale gli alunni dell'Istituto Comprensivo San Giuseppe Savini San Giorgio alla presenza del sindaco di Teramo e delle altre autorità canteranno l'Inno d'Italia ed ora è il momento dello sport eccoci qua pronti per partire con la Lega Pro ovviamente parliamo di calcio gli esiti della decima di ritorno in Lega Pro lascerebbero supporre che potrebbero essere Ascoli e Teramo a contendersi la conquista del primo posto e quindi della serie B se per l'Ascoli però siamo nella norma il Teramo è da considerarsi la più lieta sorpresa del campionato reduce da un intero girone di imbattibilità ben 19 gare e nel quale non brillano soltanto i due attaccanti vantando in organico atleti dal rendimento altissimo è il caso di Cenciarelli Amadio Speranza e il portiere Tonti su tutti e nel turno ultimo da segnalare l'esplode dell'Aquila a Pisa con la panchina di Braglia che scricchiola ed il pari della Reggiana sul campo del tutto cuoio mercoledì intanto ci sarà la disputa di un turno infrasettimanale l'Ascoli sarà di scena a Pontedera e il Teramo a Piacenza mentre nella 26esima giornata del girone F di Serie D la corsa della Maceratese verso la Lega Pro appare inarrestabile ieri ha liquidato la Vis Pesaro e le inseguitrici sanno di dover correre per il platonico secondo posto con Fano e Samb entrambe vittoriose in casa risale il Chieti che batte nettamente il Matelica mentre appare drastica la situazione del Celano è molto complicata quella di Agnonese e quella di Amiternina importantissima la vittoria del Termoli nel campionato nazionale di basket di Serie C si è disputata la 22esima giornata che ha fatto registrare l'inopinata sconfitta della seconda della classe Falconara ad Osimo vince l'ottava partita consecutiva la Globo Campli che chiude il confronto a metà partita per poi amministrare ed ora leggiamo insieme la classifica Wirortona a 40 Falconara a 34 Globo Campli a 32 a quota 30 Robor Osimo Matelica Pisaurum Pesaro a 28 Tolentino a 24 Pallacanestro Pedaso a 22 Pescara a 16 Valdiceppo a 14 Perugia Civitanova a 12 Casarredo Loreto a 10 e Gubbio a 6 e sul basket vediamo insieme il servizio sul Campli Il Campli vince l'ottava gara consecutiva stavolta di 9 70 61 chiudendo la pratica Civitanova nei primi due quarti più 22 a metà partita e mollando forse mentalmente nel proseguo della contesa sempre controllata comunque senza patemi particolari magari Piero Millina che non era soddisfatto della prestazione neppure dopo aver battuto la corazzata Ortona non avrà fatto salti di gioia da questa angolazione o forse avrà letto il confronto sotto altre sfaccettature in primis ad esempio quella d'aver portato a canestro otto giocatori diversi e magari avrà pure valutato sul campo e in partita quanto pesi l'assenza soprattutto sotto canestro ma non soltanto di Cristian Di Giulio Maria che non era presente nello scout contro i marchigiani già battuti all'andata per dirla tutta poi sarà anche mancata nella domenica dell'ennesima vittoria biancorossa la buona notizia che non è arrivata da Osimo dove la Robur ha quasi asfaltato Falconara ma è altrettanto vero che per accedere ai playoff bisogna fare affidamento esclusivamente nelle sole proprie forze oggi essere nella non facile condizione di doverle vincere tutte sapendo che se così andrà saranno playoff certi a prescindere dagli altri risultati è già tanto per come si era messa questa stagione top scorer del match è stato fattore autore di 21 punti con Bergamin e Petrucci a 13 nel Civitanova Principi 18 e Lupetti 15 su tutti sabato prossimo si va a Perugia con l'obbligo di sempre vincere e torniamo a parlare di calcio in eccellenza Abruzzo il paterno non ce l'ha fatta superare l'Avezzano che osservava il proprio turno di riposo è finita 0 a 0 infatti la gara con il San Salvo colpo di coda del Francavilla che si rilancia vincendo il trasferta contro la Torrese nella zona calda è importante il successo al Santa Maria di Pineto colto dall'Alba Adriatica che ringrazia il Montorio per aver battuto la diretta concorrente Acqua e Sapone nella 26esima di campionato dell'eccellenza marchigiana col paccio esterno della Folgole Falerone che stacca il Tolentino fermato in casa dal Grotta Mare non è approfittato il Montegiorgio che non è andato oltre l'1 a 1 nella trasferta non proibitiva contro la Forse Empronese vince di misura il Bismara contro il Corridonia nel Girone A della promozione Abruzzo è da considerarsi clamoroso ma in negativo il pareggio del Morro d'Oro sul campo dell'ultima della classe ossia il Balsorano ne ha approfittato la seconda della classe Ponte Vomano che è andata a vincere largamente a Mociano su un campo che presentava molte insidie vince la quarta gara consecutiva il Santomero che ferma il Mutignano oltre il punteggio di 2 a 1 con gli ospiti che non perdevano da 8 gare consecutive torna al successo il notaresco mentre rallenta la rincorsa del Fontanelle fermato dal Castelnuovo sullo 0 a 0 la gestione Patrick Moro evidentemente comincia a funzionare il Girone B della promozione Marche registra nella 26esima giornata di campionato le vittorie casalinghe dell'Elvia Recina e della San Giustese ed il pari esterno dell'Atletico Piceno con i maceratesi che allungano e consolidano la leadership del torneo 20 le reti complessive di ieri ma ben 7 fanno parte del larghissimo successo del Montefano sulla derelitta monturanese in attesa dei recuperi di mercoledì prossimo nel Girone D di prima categoria Abruzzo da registrare il rallentamento delle prime col Montaurei battuto seccamente dalla Virtus Teramo a detta di molti una squadra di categoria superiore ed il calcio Giulianova fermato in casa dal Favale sul nulla di fatto questa è la nuova parziale classifica con Giulianova Atletico Lempa Piano della Lente Bisenti Colle Atterrato Torricella Insula Falchi Miano Rosburgese ed Atria che hanno una gara in meno e nel Girone D della prima categoria questa volta marchigiana si attende l'esito del recupero di mercoledì prossimo della New Generation per sancire la vittoria matematica del campionato dell'Azzurra Colli che se non arrivasse tra 48 ore arriverà nel turno prossimo di sabato a tal proposito vi anticipiamo che la nostra emittente sarà presente all'evento ieri 13 le reti segnate quindi poche delle quali soltanto 4 da parte delle formazioni viaggianti prima di salutarvi vi ricordiamo l'appuntamento di stasera col 23esimo numero di J Magazine Sport si parlerà di calcio dilettantistico e dei campionati di promozione e di prima categoria ospiti di di Walter Cori in studio saranno gli allenatori del Montaurei e della Virtus Teramo Palandrani e Zenobi e poi l'istruttore della FIGC regionale Marco Pompa e l'atleta italo-argentino del Campi Basket Bergamin allora non perdete questa puntata di J Magazine Sport grazie per essere stati con noi era l'ultima notizia buon proseguimento di serata con i programmi quindi di Super J grazie a tutti